Nessuno ne ha parlato, nel senso che si è ribadito la grande riforma della tassazione sugli immobili entro il 31 di agosto. Dentro questa grande riforma ci sarà la soluzione sul Limo Prima Casa, ma non solo, sui capannoni, terreni agricoli, i beni strumentali delle imprese, eccetera. Quindi si è scelta la strada originaria della grande riforma della tassazione degli immobili da fare entro il 31 agosto e su questo parte dalla prossima settimana un tavolo di collaborazione, confronto, elaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze proprio per redigere questa riforma che ovviamente è complessa, tra l'altro ricordo che il gettito della tassazione degli immobili è circa 40 miliardi di euro, mentre quello dell'Imu Prima, Seconda e altro è di 24 miliardi di euro, quindi abbiamo un perimetro doppio su cui poter lavorare. Ci saranno anche altre riflessioni ovviamente che riguardano il mercato del lavoro, grande attenzione alla necessità di un avviso comune da parte dei sindacati per quanto riguarda la flessibilità in entrata. Questo è un tema rilevante soprattutto relativamente non solo all'Expo, ma all'Expo come fatto simbolico che chiederà al nostro mercato del lavoro di essere più reattivo, più flessibile e su questo ci deve essere ovviamente una grande collaborazione da parte dei partner sociali, sindacati e imprese. Tutto questo dovrebbe avvenire entro metà di settembre e c'è l'impegno del Presidente eletta di fare da stimolo perché le parti sociali possano trovare un accordo su questo tema fondamentale per la creazione di nuova occupazione che è quello della maggiore flessibilità in entrata. Grazie.